buongiorno buongiorno dal dottor claudio saraceno da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscolo oggi ragazzi rispondo ad una signora che mi parla di balbuzie per il figlio dottore le abbiamo provate tutte da anni ma la balbuzie rimane sempre lì al suo posto cosa possiamo fare visto che anche mio figlio ormai si è stancato non vuole più girare cappelle a 16 anni e balbetta io gli ho consigliato un audio mp3 dcs dal titolo no balbuzie che puoi scaricare direttamente dal sito della mia associazione ipnologia associati los angers beverly hills a cui ho ceduto tutti i miei diritti in quanto la mia mission la mia missione è quella di divulgare diffondere il mio metodo dcs finché sono su questa terra finché sono vivo finché ascolto finché parlo finché vedo l'ultima delle immagini su questa terra ti posso garantire che centinaia e centinaia di balbuzienti hanno risolto il loro problema anche con un solo audio mp3 dcs perché l'iter completo è audio mp3 dcs se risolvi il tuo problema hai finito di girare cappelle poi ci sono le sessioni online di ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola che al momento sono sospese perché il sottoscritto è pieno di impegni e da poco tempo vediamo se domani le riprendiamo sarai avvertito e poi ci sono audio mp3 dcs personalizzati però ti posso garantire che la balbuzia proviene dal tuo subcosciente al tuo piloto automatico come linguaggio la lingua per cui devi educare convincere chi comanda dentro di te il tuo subcosciente il tuo piloto automatico il genere della lampada di aladino per eliminare la balbuzia e finalmente parlare come i tuoi amici non vergognarti più non sentirti a disagio in imbarazzo e compagnia bella fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente i miei tempi e mi impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fan page su facebook ipnosi autoipnosi del dottor claudio saracino iscriviti per forza questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesser dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesser dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio e credi in te stesso e ricordati l'ipnosi di cesser rispetto alle altre forme di ipnosi funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto l'aiuto di nessuno nel online del vivo e anche per chi non può un bacio un abbraccio e alla prossima ciao